Lo scopo di questo corso, mi sono preso qualche appunto, è proprio quello di condividere un'esperienza di tutti questi anni, anche in base a quello che sta arrivando dalle altre parti del mondo, ma anche darvi i propri strumenti pratici. Quindi il loro significato, la priorità di intervento, da un approccio molto semplice fino a un'interpretazione avanzata per il medico. Noi vi avviso e vi informo che l'8 settembre a Bologna, il 9.10, ci sarà congresso e corso internazionale. Verranno in Italia il presidente della Sewol Bay, Marco Sten, Pellerino, che è uno dei più grandi esperti dell'utilizzo di S-Drive, Raja, il grande Raja, e Esteban Peyromozzo, che ha l'esperienza nella clinica dell'utilizzo di S-Drive con il Real Madrid, Barcellona, Paris Saint-Germain, tutti gli atleti, gli sportivi, eccetera. Quindi al di là dell'impiego, come sapete, di S-Drive, in tutte queste, quello che già sapete, c'è anche un'applicazione importante per ottimizzare la performance. Qui l'8 abbiamo deciso di fare, volevamo fare una riunione in lunigiana, adesso ci stiamo ancora pensando, dire venite nella bellissima lunigiana, stiamo insieme una giornata. Però visto che abbiamo questa opportunità di fare 8, 9, 10 tutti insieme, ma decidete voi. O la facciamo in lunigiana, al fresco, nel verde, insomma, l'estate fa caldo, la facciamo a luglio, primi di luglio, oppure la facciamo l'8 settembre a Bologna. Decidete voi, ecco, anche, insomma, penso che si possa tranquillamente decidere anche in base alle vostre esigenze. Se vi piace più stare con noi qui in lunigiana, una giornata e mezzo, oppure facciamo quel giorno l'8 settembre a Bologna. Abbiamo poi inviate casi clinici. Adesso stasera ne sono arrivati qualcuno, ne prenderò in esame tre, forse quattro, vediamo dai tempi. Non vogliamo farmi andare a letto a mezzanotte, anche se ne varebbe la pena di stare qui tutti insieme a confrontarci e condividere questa grande opportunità. Vi ricordo, il 27 e il 28 giugno, corso online sulla nutraceutica e sull'impiego di, ci saranno quattro ore, dal dottor Bartromeo Legrini, il 28, il 27, tutta nutraceutica applicata. Miceli, Iorio, poi ci saranno casi con Portellessa, eccetera. Per piacere, se potete, chiudete i microfoni. Altra cosa di cui vi volevo informare è che questo corso del 27 e 28 costa, mi sembra, 100 euro più IVA, per i possessori di S-Drive è solo 50 euro più IVA, 50%. Però, insomma, ne vale la pena. Ve lo metto a disposizione, naturalmente a suoi costi, perché costa anche gestire tutto il discorso, però per voi a 50 euro più IVA. però iscrivetevi, perché mi hanno detto non lo dire, no, 50 euro non lo dire, sì, 50 euro più IVA per tutti quelli che hanno S-Drive, lo faccio più che volentieri. La formazione è fondamentale, secondo me. Non deve essere gratis, perché tanto, se no, nessuno lo apprezza, il gratuito. Non va bene, quindi ognuno deve dare il suo contributo alla causa. Quindi, 27 e 28 vi ho detto questa cosa. L'altra cosa di cui vi voglio informare è che sta partendo la scuola di alta formazione a ottobre, rivista con un approccio veramente clinico importantissimo, con tutte le branche della medicina. Stanno facendo un lavoro straordinario i responsabili scientifici. Chi ha già partecipato alle altre scuole ha il 50% di sconto, perché questa è la regola che abbiamo sempre fatto per tutti. Quindi, chi ha partecipato alle scuole di alta formazione ha il 50% di sconto. E invece per i possessori di S-Drive, naturalmente, c'è anche uno sconto, mi sembra, del 20, 30 o 40%, una cosa del genere, per i possessori di S-Drive. Quindi, altra cosa di cui vi devo informare, perché se no me ne scordo, congresso a Rimini Wellness il 2 giugno, ve l'ho mandato. Il 4 maggio sarò a Milano all'evento Padel, organizzato dalla campionessa Mara Sant'Angelo. Il 20 maggio sarò a Milano con un congresso straordinario, divulgativo, quello politico. Mi hanno chiesto di parlare di S-Drive per l'utilizzo nel mondo della prevenzione. Ecco, questo corso, penso che in questo corso abbiamo una grande responsabilità, mi sento una responsabilità di potervi dare il meglio che posso per supportarvi, un approccio semplice, tenendo conto che ci sono anche appunto quelli che hanno acquistato con la S-Drive da poco e quindi bisogna dargli delle basi e quello ci tendo. Direi che stiamo lavorando a un progetto, progetto che ci ha visto sempre più protagonisti nel capire che S-Drive è una responsabilità, perché fa delle cose e riesce a mappare delle informazioni importantissime in fase di prevenzione, di supporto, di consigli, ma soprattutto anche per il medico che lo sa utilizzare. vogliamo iniziare da una sorta di bussola per chi dice come faccio a orientarmi nel mondo di S-Drive. Beh, S-Drive, come dice sempre Bartolomeo, dottor Allegrini, ti fa pensare ma ti mette anche in discussione e ti dice guarda studia perché abbiamo veramente bisogno di avere un approccio, di una mentalità aperta, di metterci in discussione tutti per capire sempre di più i vari collegamenti. penso che il report S-Drive sia proprio una sorta di bussola, ma anche di opportunità di unire i puntini tra la biofisica, la biochimica, la clinica, la fisiologia, la fisiopatologia, l'impatto ambientale che non ne tiene conto ancora nessuno, i mitocondri, la disfunzione mitocondriale, le carenze di ossigeno, le intossicazioni, i vari problemi a livello di gastrointestinale, i problemi cardiocircolatori, i problemi immunitari e collegare queste varie aree, un approccio clinico integrato per il medico, ma nei consigli anche per migliorare la qualità della vita delle persone, penso che sia qualcosa di straordinario, un sogno, perché quando 24 anni fa iniziai con il self-food mi prendevano per matto, poi oggi ci sono pubblicazioni scientifiche pubblicate. Lo stesso è capitato con S-Drive, 6-7 anni fa mi prendevano per pazzo, mi dicevano che ero un folle e oggi abbiamo non solo S-Drive è in 70 paesi nel mondo, ma abbiamo della clinica importante, delle testimonianze importanti. Naturalmente è come un coltello, il coltello alcuni lo usano per dare delle coltellate, altri ci spalmano il pane, quindi è un paragone sì un po' forte, però bisogna saperlo usare come tutte le cose, va usato per quello che fa S-Drive. Non possiamo pensare a uno strumento di diagnosi, la diagnosi la fa il medico, è uno strumento in più che poi il medico o chi per esso utilizzerà S-Drive per poi andare ad approfondire certe aree nelle varie tematiche secondo le sue esperienze, la sua professionalità. Quindi S-Drive è una vera e propria busso. Adesso se voi mi permettete iniziamo con veramente un piccolo ABC, ma credetemi facciamo veramente veloce, poi passiamo subito ai casi, comunque abbiamo tempo, anche perché qualcuno mi ha detto per piacere aspetta un pochettino di più, allora poi dalle nove in poi inizieremo a fare la clinica. Guardate, questa è la parte che alcuni di voi hanno già visto, altri probabilmente hanno fatto finta di vedere, non hanno mai letto perché non c'è mai il tempo, vi capisco, però alla fine questo è un documento ufficiale della Sellwell Bank, quindi il documento ufficiale. Quindi a volte dico no, no, ma io lo leggo così, io lo leggo come mi pare. Io penso invece che dovremmo ascoltare i consigli di chi ha ideato l'S-Drive e i consigli di chi ha ideato il report. Nei prossimi appuntamenti ci sarà anche Marco Stanton che verrà a aiutarci nella formazione. Allora, partiamo da questo presupposto. È inutile che continuiamo a parlare delle cose che conoscete benissimo. Un approccio clinico integrato dovrebbe prevedere la conoscenza di tutti i fattori che interferiscono con la salute di una persona, a cominciare dalla disfunzione mitocondriale, dalla carenza di ossigeno, dalla disfunzione doteliale, dall'acidosi, dal mesenchima, al tessuto connettivo, dal sistema gastrointestinale, cardiocircolatorio, potremmo il sistema immunitario, il ruolo del microbiota, del cui abbiamo un grandissimo esperto che mi onoro di avere tra di noi e che saluto, Guido Marini. E quindi dovremmo avere un approccio che veda anche non solo una sempre dal buco della serratura, ma di cominciare ad aprire quella porta o quella finestra e cominciare a capire tutti questi fattori, come possono intervenire e unire i puntini per miglioramento della qualità della vita e quindi per interpretare l'S-Drive. Ora io penso che un test S-Drive, se fosse per me, dovrebbe valere per il cliente, il paziente, quello che volete, veramente tanto, perché per avere tutte quelle informazioni in 12 minuti, non so quanti esami dovreste prescrivere o consigliare di fare, ma soprattutto poi bisogna vedere se quei dati che vi arrivano, dopo quando vi arrivano, prima di tutto, spesso arrivano dopo 15 giorni, un mese o chissà, se poi quelli sono utili per intervenire nei problemi della persona. Sto parlando di prevenzione e supporto, sto parlando di malattie, sono un'altra cosa. Però penso che sarete d'accordo con me. Dovremmo spendere teste per capire i minerali, teste per le vitamine, teste per il microbioma, teste per il sistema cardiociculatorio e la lipidomica e poi i test per l'impatto ambientale e chi c'era. Per capire se una persona ha una sensibilità chimica multipla, per capire se una persona è un elettrosensibile, per capire se una persona è intossicata, se è una persona in acidosi, se ha un problema emozionale, se ha un sovraccarico magari di stress ossidativo, se ha bisogno di antiossidanti. Come facciamo? Con quale strumento possiamo veramente valutare quella persona? In quanto tempo abbiamo uno strumento a disposizione che non sia S-Drive? Penso di no. Penso che questo sia uno strumento veramente unico al mondo e dall'esperienza che abbiamo adesso possiamo sicuramente affermare che è quasi diventato indispensabile per chi lo usa tutti i giorni. E allora, se partiamo da queste cose di cui ci siamo così interessati in questi anni, in questi periodi, dalla carenza di ossigeno a tutte le varie problematiche e le carenze che possono causare un problema alla salute delle persone, dovremmo incominciare a parlare anche di evitare i problemi. Quindi in questo strumento, se vogliamo fare veramente non solo curare, ma anche prevenire, guidare, supportare, migliorare la salute delle cellule, perché poi in realtà S-Drive ci permette di leggere quello che sta accadendo a livello intracellulare, a livello tissutare, cose che noi non potremo mai conoscere, perché il sangue è una cosa, e invece i tessuti e le cellule sono altre cose. Quindi ecco la grande capacità che ha S-Drive di leggere il problema. E quindi la medicina personalizzata, predittiva, preventiva e partecipativa è proprio quello che ci permette di fare S-Drive. Non c'è un altro strumento che ci permette di fare questo oggi e conoscere questi fattori che possono interverire sulla salute delle persone. Incominciando, come sapete, da questi report straordinari che abbiamo dal sistema immunitario, la rigenerazione delle cellule, il sistema proprio per gli sportivi, eccetera, eccetera. Ora, se noi vogliamo iniziare a parlare di come interpretare S-Drive, la linea guida dovrebbe essere quella di vedere S-Drive proprio come scritto, come loro ci spiegano, come una sorta di GPS che ci permette di prevenire piuttosto che curare. Chiaro che poi il medico lo utilizza anche per fare diagnosi, ma noi il nostro scopo è fare prevenzione. Quindi capire se una persona è più sensibile o meno sensibile a certi fattori. Magari prevenire le ricadute. sapete quanto questo può essere utile, possa essere utile sicuramente nei problemi proprio attuali, no? Virus, post-virus, eccetera, ma lo vedremo. Quindi il fatto che S-Drive sia uno strumento da utilizzare in un approccio multidisciplinare, in un approccio clinico integrato, penso che sia un grande valore aggiunto per un professionista. E non sottovalutate questo test, questo test a pagina 31 che io dico fatevi delle fotocopie e magari del paziente o cliente che avete lì in sala d'attesa gli fate fare questo questionario prima che entri a fare il test. Questo è uno strumento utilissimo per fare capire alla persona dove si trova e dove può andare, dove si trova e dove può andare. Allora, iniziamo da questa fase, molto semplice, poi lo vedrete anche con una visione più dettagliata e più complicata, come dico io, d'insieme. Sicuramente questa è una pagina 3, è la pagina riassuntiva. Dopo il report viene firmato, come sapete, dai medici responsabili del Centro di Elaborazione Dati, tra cui Marcus Stanton che ha creato questo report, che ci dice seguite le priorità. Quindi vedete dove c'è il riepilogo, dove c'è sistema adrenergico, equilibrio microbico intestinale, sintesi proteica, metabolismo degli zuccheri. Poi focalizzatevi su queste cose, sul fatto che vi dice, guarda, caro professionista, il test S-Drive mi mette in evidenza che ti devi orientare su queste priorità la persona che hai davanti ti sta chiedendo di mettergli a posto il sistema adrenergico, l'equilibrio microbico intestinale, la sintesi proteica e il metabolismo di zuccheri. Vi ripeto, queste sono le linee guida A, B, C che dovrebbero essere seguite per l'interpretazione di S-Drive. A sinistra vi dice perché. Dice perché questo riepilogo mi sta indicando questa situazione? Perché se voi andate a sinistra, vedete le priorità. Andate a vedere le priorità. Al numero uno ci sono le sfide ambientali con una P. Vuol dire che questa è la priorità numero uno. Al numero due, vitamine. Vedete? Vitamine, priorità. Al numero tre, interferenze. Tre interferenze, P. Al numero quattro, acidi grassi essenziali, P. Ancora una priorità. Al numero cinque, minerali. Quindi i fattori dove devo intervenire sono questi. Vedete che gli alimenti non glieli dà come priorità o problema per lui, però qui sotto c'è una tabella dove ti dice guarda se mangi questi cibi eliminali, se non li mangi continuano a eliminarli. Cioè se non li mangi continuano a mangiarli. Non è un test di allergia e intolleranza alimentare. Non c'entra assolutamente nulla. È comunque un test che vi dice l'incompatibilità delle persone con quei cibi. Sempre a pagina tre sotto trovate questo riferimento. Sfide ambientali, quindi sostanze chimiche e idrocarburi e chiedete sempre alla persona dove vive, dove lavora, dove dorme, se fuma, se c'è qualcuno che fuma intorno a lui, se ha respirato nel suo passato sostanze chimiche. Perché comunque S-Drive tiene conto anche dell'accumulo. È un po' come quando trovate radiazioni. Fate ragionare la persona dove ha dormito, dove ha vissuto, anche prima di magari di quella casa. Se lavora in uno scantinato, se vive e dorme al primo piano nelle radiazioni. State attenti a se vivi in una casa o in una zona dove c'è tanto tuffo, per esempio. Questo è per il radio, le radiazioni. Si ha fatto radiografie. Però qui è fondamentale proprio tenere in considerazione la storia dell'ambiente, la storia dell'ambiente dove ha vissuto questa persona. Altra cosa fondamentale, quindi sostanze chimiche. Che tipi di detersivi usa in casa? Per esempio ci sono dei bambini che gattonano dopo che hanno lavato con la varichina, con i detersivi. E dice come mai questo è intossicato a sostanze chimiche? Perché gattona dove poi queste sostanze si seccano e loro le respirano. O magari vivono in una zona altamente inquinata. Basta pensare ai disastri che sappiamo delle terre dei fuochi, a cominciare da la Puglia. Poi ce ne parlerà anche Bartolomeo Allegrini. Vedete, poi al secondo posto cosa ci sono? Le vitamine. Vedete, biotina, B12, biotina, B12, B2, B3. Guarda caso, sistema nervoso e metilazione. Quindi, se voi andate sopra, sistema adrenergico, guardate un po', metabolismo e gli zuccheri, poi lo vedremo nei minerali. Comunque, vedete, biotina, B12, B2, B3. Ecco, in questo caso, poi dopo magari approfondiremo negli altri report con i casi clinici, con Bartolomeo. Ma fate sempre attenzione. Biotina, vitamina B12, vedete? Qui, quando voi parlate di rimetilazione del DNA, è fondamentale capire che questo ha un ruolo fondamentale non solo quello di assimilazione a livello gastrointestinale. Non le mangia, non le assimila, non le assorbe, ne consuma troppo. Quindi, il sistema nervoso sta soffrendo per quello. E vedete quanto danno a livello elettromagnetico che ha. Eppure le persone non ne tengono conto. Anzi, spesso non viene data abbastanza importanza ai danni da campi elettromagnetici che vengono fuori dall'ass-drive. Ma è l'unico strumento a capire se quella persona è sensibile o no ai campi elettromagnetici. Non avete altro. I danni sono importantissimi. E poi, l'avete visto, quel caso della bambina, si spiegherà, di Selene, con Bartolomeo Allegri. E vedete, acido arachidonico, omega 3. Quindi, ci sono delle carenze. Il dottor Marco Stento ci dice, guarda, che se ci sono delle carenze vuol dire che gliele devi dare. Ne ha bisogno. Naturalmente con delle priorità. Non è che possiamo far uscire con 20 prodotti. daremo dei prodotti prioritari. Ferro, silicio, cromo e ramo. Non entro nel dettaglio, però vi do solo delle indicazioni tecniche. Qui sono i casi che aveva portato Bartolomeo Allegri. Ecco, detto questo, ricordate che questa dispensa, questa qui, è una dispensa molto utile che avete a disposizione. Come si preleva l'S-Drive? Beh, qui è inutile che lo sapete benissimo. Come si crea un report? Come si interpreta il report? Guardate, vi dà tutti i passaggi dal numero 1, 2, 3, tutti i passaggi, tutti, di come interpretare l'S-Drive e come utilizzare questo anche nella relazione con il vostro paziente. Qualche consigli sulla dieta, per chi è amante dell'equilibrio acido-basico, le cibi acidi, eccetera. Quindi, quello che ci permette vedete di come comprendere le varie pagine in sintesi proteica, metabolismo di zuccheri, metabolismo di carboidrati, metabolismo di acidi grassi, l'equilibrio microbico intestinale, la disidratazione. Come incominciare, come abbiamo fatto noi, dalla pagina riassuntiva, dai cibi da eliminare o continuare a non mangiare. Le domande, come mai se io non li mangio vengono fuori? Perché sono incompatibili, quindi è meglio che non li mangi. Sono persone che non li mangiano perché proprio non gli piacciono quei cibi e già lo sanno da solo, quindi non c'è da stupirci. Ma io non li mangio. Se non li mangi, li togli. Non li mangi, insomma, continuano a mangiarli. Se li mangi, li togli. Finito. Eh? Poi ognuno farà la sua valutazione. E in questo caso ancora, vedete, vi spiega come interpretare il report. Se voi seguite passo passo queste proprio indicazioni, voi arrivate a interpretare. Io penso che di non avere tutta quella intelligenza o di essere uno scienziato o un medico, non so nessuno io. Però ho ascoltato i consigli di Marcos, di Bartolomeo Legrini e di quelli che hanno utilizzato S-Drive in questi anni. Ho avuto l'onore e l'opportunità di organizzare tantissimi congressi. E la prima cosa che faccio, mi metto in prima fila ad ascoltare, è che ho cominciato a capire come poter unire i puntini. E ora sono qua a condividere quello che mi hanno insegnato loro, a cominciare da Carlos Orosco sette anni fa, e poi Jan, che ha creato questo straordinario strumento, poi Marco Stent, poi Esteban Peyro, eccetera, eccetera. E qui vi dice proprio anche, in base a come vi evidenzia le varie fette e come le colora, vi dice come intervenire. Quindi questo documento, proprio seguitelo, pari passo, leggetelo magari uno, due, tre volte. Io ormai l'ho consumato, sono consumato le dita dell'indice, per schiacciare e leggere queste pagine. Ecco, e poi ci sono le varie pagine dei sistemi. Il sistema immunitario, il sistema gastrointestinale, il sistema cardiocircolatorio. Come si lavora? Si lavora guardando la pagina, guardando il totale. Vedete il totale qui, in questo caso è 70, in basso a destra. Allora, innanzitutto, una persona in buona, perfetta salute, ne ho trovate pochissime, ma lo trovate, tra 1 e 19 dovrebbe stare come punteggio. E come si valuta questa pagina? Guardando i numeri che sono nella colonna dove c'è la somma, sopra a 70, il 6, 5, il 14, 22, 0, 5, 9, 4 e 5, andando a vedere i punteggi più alti. In questo caso, vedete, c'è il sistema cardiovascolare, il sistema energetico, l'idratazione, quindi i sistemi di supporto, che è 22. L'altro è l'impatto ambientale. Vedete, quello in rosso è 14. Un altro numero che vi richiede attenzione è il sistema antiossidante, 9. e poi sotto 6 e gli altri riferimenti. Quindi voi focalizzatevi sempre sui numeri più alti. Lì dovete lavorare. Poi vedete, ci sono anche funghi, quindi c'è una fermentazione, c'è una candida, c'è un metabolismo, infatti, vi ricordate, il metabolismo degli zuccheri, mancava il cromo, eccetera, eccetera, la B12, la produzione di energia. E beh, c'è una fermentazione. Quindi la pagina, il sistema immunitario, andate a vedere il punteggio massimo e andate a lavorare sui numeri più alti, in quelle zone. La pagina, il sistema cardiocircolatorio, stessa cosa. Il punteggio quant'è? Più 7. Vuol dire che dovete supportarlo, questo sistema microcircolatorio. Quanti casi, magari, il dottor Bartolo Mergerini ha detto eh, c'aveva il microcircolo, aveva problemi al microcircolo e c'aveva le gambe gonfie. Eh, c'è solo un problema cardiovascolare, sempre solo un problema cuore. Qui parla il sistema circolatorio. Quindi ci può essere un problema anche a livello del microcircolo. E ricordate, con questo riferimento, questi dati, siamo arrivati a capire anche certi problemi di omocisteinata o di MTHFR. E poi ogni sostanza ha un'azione specifica. Vitamine. Vuol dire che vitamine non le possiamo fare a meno. Per esempio, non è che ha vitamine. Se gli dice che gli mancano le vitamine, vuol dire che ne ha bisogno, le sta consumando. Perché gli mancano queste vitamine? Perché gli mancano questi acidi grassi essenziali? Perché gli manca il sistema antiossidante? Perché ha una carenza di aminoacidi specifici, magari, che possono dare dei riferimenti, come ci ha insegnato, no? Chi utilizza S-Drive da tempo, citrullina, intestino, no? Tirosina, magari, può darci, fa venire in mente il metabolismo della tiroide, come lo iodio vi può venire in mente il metabolismo della tiroide, come il litio vi fa venire magari problemi a livello cerebrale, come la glutamina e l'istidina vi possono far venire in mente problemi di intestino permeabile, eccetera. E poi, attenzione, è qui che vi dovete focalizzare, perché S-Drive vi permette di capire probabilmente che se iniziate a togliere, avete più risultati che dare, che riempire, a volte, no? Come dice, prima di tutto, depura l'organismo, una depurazione profonda dell'organismo. Ma se questa persona è intossicata da metalli tossici, da sostanze chimiche, da radiazioni, da campi elettromagnetici, come può funzionare bene. Quindi, prima di tutto, pulire, disintossicare, drenare, rigenerare, riattivare e poi tutto discorso gastrointestinale. Adesso poi, magari, il dottor Bartolome Grini entrerà nello specifico di come interpretare questi segnali, perché poi S-Drive ci dà dei segnali che noi poi possiamo sicuramente utilizzare a favore e interpretare in maniera opportuna. Mi raccomando, non sottovalutate l'impatto dei danni da campi elettromagnetici. È l'unico strumento che vi permette di questa sensibilità, di capire se una persona dorme col cellulare sopra il cuscino, sotto il cuscino, vicino al comodino, se lo tiene nella stanza dove dorme, se ha wifi acceso, se utilizza troppo il computer, eccetera, eccetera. E proteggeteli. La smart card è il top. E poi alimenti, che non sono allergie, leggetela, questa parte è fondamentale. Adesso, qui, proprio una cosa di base che potete leggervi anche voi, compreso come eliminare gli additivi, se si fa troppe tinte, se usa farmaci, se è intossicato da farmaci, se mangia sostanze, cibo spazzatura, eccetera, eccetera. Poi, come sapete, a pagina 28 ci sono i link per andare a vedere le fonti che stanno intossicando quella persona. ma lo vediamo bene. E poi, i nutrienti fondamentali, le sfide ambientali. Questo comunque è inutile che lo guardiamo, ve lo mando, ve lo rimando, chi non ce l'ha me lo chiede. Perché? Il nostro obiettivo è rigenerare e riprogrammare le cellule in maniera sana. Ricordate che ci sono tutte le certificazioni. Ora vi chiedo una cosa. Vi voglio svelare un segreto, però mi dovete fare una una promessa. Quello che vi farò vedere non può essere divulgato a nessuno. Vi chiedo la cortesia di chiudere qualsiasi cellulare che avete in registrazione. Ma questo deve essere una promessa. perché se c'è un cellulare che avete registrato quello che io vi faccio vedere vi vengo a prendere io a casa. Ve lo dico. Quindi che sia promesso. È promesso sì o no? Ok. vi dono qualcosa di veramente importante. Naturalmente è in inglese però si capisce benissimo. C'è anche il sottotitolo in italiano. Allora quello che io vi faccio vedere è perché quando ho iniziato con S-Drive che avevo praticamente un bel po' di persone contro non volevo utilizzare questi strumenti